Questa lezione riguarda la definizione formale di campi vettoriali e le sue traiettorie. Per facilitare la comprensione dell'argomento di questo video, guardate il mio video precedente Campi vettoriali, intuizioni. Definizione, sia M in RK, una varietà differenziale MD. Ebbene, per comprendere la nozione di varietà differenziabile è sufficiente immaginare il seguente esempio. Qui abbiamo una varietà bidimensionale liscia, o differenziabile. È differenziabile perché non ha punti appuntiti o qualche discontinuità. Un controesempio sarebbe il seguente. Questo è uno spazio simile, ad eccezione di questo punto appuntito o pizzicato qua. A questo punto la varietà non è differenziabile. Come osservazione, stiamo usando qui la definizione simplicistica di varietà come spazio topologico che è localmente simile allo spazio euclideo vicino a ciascun punto. Pertanto è possibile coprire l'intero spazio M con intorni di ciascun punto, in modo che ciascuno di questi intorni sia in corrispondenza uno a uno con intorni di Rn, a seconda della dimensione n dello spazio M. Un campo vettoriale di classe CR su M è una mappa CR, X da M a Rk, tale che X di P vive in TPM, ove P è il punto di M e TPM è lo spazio tangente di M in P. Quindi abbiamo lo spazio M e nel punto P c'è lo spazio tangente TPM. Il campo vettoriale X ha uno dei suoi elementi in questo spazio tangente, cioè X di P. Cioè X è una mappa CR da M al fibrato tangente TPM, che è definito come l'unione disgiunta di tutti i spazi tangenti di M ai punti P in M. Ancora, abbiamo M con i suoi punti P, Q, R ed X li mappa nel fibrato tangente, che è uno spazio contenente tutti gli spazi tangenti per ogni punto di M. Notare che in ogni spazio tangente ci sono infiniti vettori, quindi definire il campo vettoriale specifico X vuol dire scegliere da ciascuno di questi spazi tangenti un vettore specifico. Tutti questi vettori insieme, da ogni spazio tangente nel fibrato tangente, sono ciò che chiamiamo campo vettoriale. Per questo motivo il campo vettoriale è anche chiamato sezione del fibrato tangente, che ha i suoi vettori rappresentati in rosso qui. Continuiamo la definizione. Tutto ciò con l'identità pi greco X su M, dove pi greco è la proiezione naturale dal fibrato tangente di M a M. Spieghiamo quindi cos'è la proiezione naturale. È basicamente una mappa pi greco dal fibrato tangente a M, tale che parte dell'informazione viene ignorata o dimenticata. Quindi immaginate M con i suoi punti P, Q, R e il fibrato tangente con i suoi spazi tangenti e la sezione X. Allora, scegliamo un elemento di ciascuno di questi spazi tangenti. Ognuno di questi elementi è definito in modo univoco da due parametri, il punto, ad esempio P, e il vettore di X in P, ad esempio VP. Ciò che fa la proiezione naturale è ignorare le informazioni sul vettore e output il punto, ad esempio pi greco di QVQ è Q, e così via per gli altri. Pertanto, la composizione pi greco X è la mappa identità perché si va da M a TM e poi da TM a M, conservando il punto. Questa è la definizione formale di campo vettoriale. Di solito l'insieme di campi vettoriali CR su M è denotato così. Questo è solo lo standard nella letteratura corrente. Di modo equivalente, un campo vettoriale X, che è CR, su M, è una mappa lineare X da CRM a CRM, tale che X è una derivata, cioè la seguente regola è valida. X di FG uguale F volte X di G più X di F volte G. Nota che questa non è altro che la regola di Leibniz. Un modo per vedere che questo è infatti il caso è costruire X nel seguente modo. Equivalentemente, immaginate di avere una funzione F, che è CR, ed F mappa M ai numeri reali. Questo è anche chiamato un campo scalare. Per quelli che gradiscono la fisica, F può essere immaginato come un campo che assegna un valore di temperatura, per esempio, ad ogni punto di M. Quindi abbiamo M con P ed F prende P ad F di P in R. Allora, X porta F di P al punto F di P X di F di P nel fibrato tangente di R. Quindi X di F di P è il vettore del campo vettoriale X al punto F di P, che vive nello spazio tangente di R al punto F di P. Si indica anche in questo modo, X composto con F valutato al punto P. Dunque, un campo vettoriale applicato ad una funzione scalare è la cosiddetta derivata direzionale di F nella direzione di X. E con questo terminiamo il nostro discorso sulla definizione di campi vettoriali. Definiamo ora cosa si intende per una traiettoria o d'orbita o curva integrale. Sia X un campo vettoriale CR in M e P un punto di M, allora una curva integrale di X in P è una mappa CR più 1 gamma da I a M, dove I è l'intervallo 0-1, tale che gamma di 0 è P e gamma primo di T uguale X di gamma di T, per qualsiasi tempo T in I. Rappresentiamo la situazione così. Ci sono tre spazi coinvolti qua, la retta reale, M, e il fibrato tangente di M. La mappa gamma porta i punti dell'intervallo 0-1 a punti in M. Il modo di funzionamento di questa mappa, poiché gamma è CR, può essere ripreso trasportando continuamente e di modo liscio l'intervallo I a una curva disegnata in M. Gli estremi di questo arco sono P, che è uguale gamma di 0, e gamma di 1, e poi abbiamo X che mappa i punti di questo camino, come P per esempio, a vettori negli spazi tangenti del fibrato tangente di M. Questo vettore è anche chiamato, in questo contesto, la derivata di gamma di T. Un'osservazione importante è che esiste un'idea naturale e molto ben definita in corsi di calcolo differenziale della derivata di una funzione tra spazi euclidei, cioè da R a R, o più in generale da uno spazio lineare ad un altro spazio lineare. Tuttavia, se M è astrato o generale, come in questo spazio curvo che ho disegnato qui, non ha senso parlare della derivata di una funzione come gamma che mappa uno spazio lineare R ad uno spazio curvo, astrato, come M. Quindi, quando scrivo gamma primo di T, quello che intendo veramente è la composizione X composto con gamma al momento T. Pertanto voglio dire una mappa dallo spazio lineare R allo spazio lineare TPM. E infine, l'immagine gamma di I in M è anche chiamata traietoria o d'orbita. E queste sono le costruzioni che vorrei condividere oggi.